Alla Link Motors Futignano vi presentiamo la nostra meravigliosa Volkswagen Scirocco, versione 2000 TDI 140 CV, immatricolazione ottobre 2011, cambio manuale, chilometri 180.000, ultimo tagliando maggio 2023. Distribuzione effettuata a 120.000 km con frizione volano, controllo trazione, climatizzatore automatico due zone, vetri oscurati, volante in pelle. Pacchetto sportivo Sedili sportivi Autoradio Lettore CD MP3 Sistema di navigazione Antifurto Cetti in lega Chiave bullone antifurto ruote Sospensioni sportive Che aspetti? Contatta la Link Motors Futignano al numero 080 81 72 831 377 35 66 041 Prendi il tuo appuntamento Apuntamento E atroDIto E atroDIto E atroDIto E atroDIto Grazie a tutti.